Diagnosi Una donna così, tu non la reggi No Cura Scaricala Ma come faccio? Te ne vai Piano piano Ma certo Hai un sopravvito E' su in camera Lascialo stare Pianino Andiamo Ma come d'affronto? Ma che te ne frega Che gli dico? Niente, te ne vai e non ti fai più vedere Ma loro come fanno? Viglia, bella com'è Un altro vischero lo ritrova su Non si fa le perdere temi Ma io Ma io l'amo Sì, tu ti sente? Queste sono cose secondarie senza importanza Ma poi ti passa Anch'io ho sofferto Ho sofferto come un cane per quasi tre quarti d'ora Cammina, son Fatti diamo per le scale Andiamo Andiamo Sì, tu ti sente? Sì, se sente? Sì, te senti?